ciao creatura nuovo video mooc bag ASMR ho preparato questi mac hamburger o made burger ecco ti riprendete infatti in casa ovviamente guardali voglio mangiarli finchè sono caldi ora ti descriverò come sono fatti prima da un altro morso ora ho mega fame ora ho ora ho ora ho grazie a tutti è la mia ricetta quella con maionese sotto crauti pomodori hamburger c'era di carne sottiletta salsa barbecue e cipolle cipolle di solito quella rossa ma non l'ho più trovata quindi ho comprato una bianca sta esplotendo non sape che si sta distruzendo maionese sotto aiuto maionese sotto buon appetito! Praticamente L'ho chiesto su Instagram Quindi Se non lo fai seguimi su Instagram Di scegliere cosa avreste voluto Vedermi mangiare Tra pasta con Broccoli e acciughe Lo so che sembra strano ma a me faceva voglia E un hamburger fatto A casa Un panino hamburger E ovviamente Potrei capire Che cosa ha vinto Il panino hamburger Asi due Il panino Il panino Grazie a tutti Grazie a tutti 5 minuti ho mangiato già un panino Per fortuna che ne ho fatto un altro Se no sarebbe stato un video troppo breve Eh ma io sono vorace E poi a dire la verità Sono le 2.40 Quindi ho fame Volevo sapere cosa ne pensavi dello sfondo bianco che non si vede tanto caso Secondo me rende i miei video un po' più personali No personali? Cosa sto dicendo? Volevo dire Volevo dire Professionali o personali? Cosa cacchio dico? E non se ne è andato No c'è un po' raffreddato che pensavo Che buono qua Super mega Ho finito la salsa barbecue Oggi con questi due panini Il top sarebbe stato avere anche del bacon Ma non ce l'avevo Però il top è col bacon Oh mio dio io adoro il bacon Adoro il bagel Oddio Per due pezzi Volevo dirti che adoro vedere i video Adesso mi sono presa Che mi piace Guardami i video delle persone che non fanno ASMR Ma che lo fanno solo per moda Piano piano aspetta Adesso ti spiego Non so che vedo cosa Ma di cosa sei parlando? Mi piacciono i video dove leggono i commenti Degli haters in ASMR Ma la maggior parte delle volte Non sono artisti ASMR Ma sono persone Youtubers E mi piace appunto Una ragazza Che ha fatto questo video Ce ne sono tante Ma a lei mi piace un sacco Ed è Non mi ricordo il nome Comunque Magari metto il link del suo video Nell'infobox Infobox Di questo video qua Qui sotto lo trovate Praticamente Quando dice Spam comment Mi piace troppo Mi triggera tantissimo Praticamente Prende il mouse E fa click E fa spam comment Perché Perché Praticamente La insultano Le dicono Che è Tipo una Non posso dirlo Insomma Riceve degli insulti E Mi triggera Mi triggera Quel video L'ho visto 3-4 volte Anche lo so A memoria Troppo Però Mi piace troppo Quella scena Lì Mi piace troppo Mi piace troppo Mi piace troppo So che sono video vecchi E che andavano Se così L'smr Oppure dicono Leggo in smr Ma sussurrano solo Non sanno che smr Cioè tante persone Le dicono Anche quelli che fanno i video Faccio per Passo la mia giornata Con 24 ore Un smr E sussurrano E basta Ma smr Non vuol dire Sussurrare E anche Sussurrare Ma smr Sono tante cose Tanti suoni Che ti fanno provare Perché Tante persone Che non sanno Cosa è smr E non vanno Neanche a informarsi Vedono Va di moda Lo faccio Non va di moda Accidenti E L'smr Non è solo Rilassamento Anzi Asmr Sta nel fatto Che senti I priviti Nel Dietro Col collo Cioè Sulla nuca Sul collo Quello è smr Puoi che ti rilassi Un altro discorso Ma smr Sta appunto A indicare I priviti No Il Formicolio Ma tanti Non hanno capito Secondo me Alcune persone Neanche lo provano Cioè Non sentono I priviti Loro Magari ci sta Che alcune persone Lo guardano Solo per Per rilassarsi Ma smr Impatti Già in origine È quello È il privido Quindi Tante persone Non l'hanno capito E C'è solo questo Passaparola Dell smr Che è solo Per rilassamento Ma no No Magari Magari Alcune persone Provano Il privido E Non lo Percipiscono Come una cosa Positiva Magari Come una cosa Negativa È proprio Quello che Magari Gli irrita Che alcuni Scrivono Merita i nervi L'smr Potrebbe anche Essere così Perché dipende Tutto dai punti di vista Tipo anche Space Valley Ha fatto un video ASMR Però Non sono riuscita A guardarlo Perché Hanno detto Tipo Solo Dalle Le prime frasi Che hanno detto Mi hanno fatto venire nervoso Perché Ho iniziato a dire Tipo Non so Cose che non mi piacciono Che non Magari Che loro Non capiscono L'smr L'hanno un po' Sfottuta Oppure L'hanno chiamata Moda Che vabbè Per alcune persone Può essere una moda Ma per me Non è moda Perché Aiuta le persone A sentirsi meglio Da depressione Ansi 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 Perché Perché Quelle persone Realmente Stanno male Non è che Fanno I figli Ma io Ho la depressione Come se ci fossi Da fantassi Cioè So che c'è gente Che si spaccia Per il depresso E non ho ancora capito La differenza Tra la tristezza E la depressione Che sono due cose Diverse Che la tristezza È un sentimento Che hanno tutti È normale Averla La depressione È una malattia Ma vabbè Lasciamo perdere Questi sono altri discorsi Quindi appunto Non sono riuscita A vedere Quei video Di Space Valley Che si sta autodestruzendo si sta autodestruzendo si sta autodestruzendo ci sono dettagli perché vicino l'ho fatto casino quindi probabilmente non mi hai visto finire il panino però sto esplodendo ve lo giuro mi credi lo so che mi credi comunque vuoi sapere ciò che pensi dei discorsi che ho fatto prima e spero che questo video ti abbia fatto rilassare fatto provare dei priviti dell'sml o semplicemente intrattenuto grazie per averlo visto ciao creatura ciao creatura grazie a tutti